Ciao Olga, ciao Ricchi, dove ci troviamo? Oggi ci troviamo al Maniero di San Domenico per il nostro tour per i Manieri di Legnano. Andremo a intervistare il Capitano? Capitano Castellana e Gran Priore. Andiamo? Andiamo. Inizio dalla Castellana, oggi facciamo... Va bene. Io intervisto le donne e tu gli uomini. Allora, nome? Valentina. Da quanti anni fai la Castellana? Quanti anni di reggenza? Questo è il secondo. Il secondo, quindi sei un'espertissima del settore, giusto? Certo che no. Quindi hai fatto tutte le tecniche di cavallo il sabato mattina, giusto? Mi raccontavi prima? Sì, sì, sabato scorso siamo andati a cavallo tutti insieme. Mi stava dicendo che non ha potuto partecipare, ma questa è un'altra storia. Ricchi? Allora, adesso invece sentiamo il Capitano. Allora, Capitano, una presentazione, nome e cognome e anni di reggenza. Alessandro Bondioli, secondo anno di reggenza. Allora, Capitano, che cosa vuol dire essere Capitano della Contrada? Qual è il tuo ruolo in questa Contrada? Capitano in Contrada cosa fa? Il Capitano regge le sorti della corsa, insomma. In realtà le reggono i fantini e i cavalli, però si suol dire che è il Capitano che regge le sorti della corsa. Gli insulti li prende il Capitano, alla fine se non si vince. E niente, io lo dico sempre, c'è questa leggenda non scritta che dice che per 11 mesi comanda Gran Priore, il 12esimo mese comanda il Capitano, che è quello di maggio, che è, fra virgolette, quello più importante perché si pensa tutti alla corsa, ovviamente. Poi durante l'anno ci sono altre 2000 attività di Gran Priore molto più impegni del Capitano. Però si dice che la cosa più importante sia quella, insomma, sia la corsa, sostanzialmente. Stessa domanda la farei alla Castellana. Far la Castellana è un'esperienza bellissima che consiglio a tutte le ragazze di Contrada e infatti è il sogno da quando siamo piccoli. Sta diventando un po' anche il mio sogno, ragazzi. L'anno prossimo vorrei candidare, funziona così? Certo, è come te di Canegrate. Non si dice, forse si può dire che è di Canegrate. Non so, io sono forestiera. Forestiera, la ragazza. L'anno prossimo sarò io da Castellana, non di San Domenico, chiaramente ne scelgo un'altra, giusto? Va bene, sarai la mia rivale. Farò la tua e ti saluterò così dal cavallo, giusto? Sarai quella di Santerasmo, magari. È rivalissima? No, siete amici? Ho visto una lapide giù, tanto per dirne una, però fa niente. Dunque, riprendiamo il discorso, quindi durante tutto l'anno tu ti occupi di che cosa nello specifico? Non so, con ordini delle attività, non so, la sartoria, ti occupi? Non so, raccontami tu. Collaboro con la Sala Dame, con la Grandama in Sala Dame, in Sartoria. Convolgiamo tutti i ragazzi del Maniero, ci occupiamo del bar, delle cene, allestimenti. Un grande impegno, insomma. Un grande impegno, ma tanto amore. Tanta passione e tanto amore, sicuramente, come dicevamo prima, un impegno che dura tutto l'anno. Quindi, gli altri vedono il palio il mese di maggio, giusto? Però quello che c'è dietro è tanta fatica, tra virgolette. È tutto l'anno, tanta fatica, ma... Ben ripagata. Posso dirlo anche qua, ben ripagata. Se il capitano si impegna, sarà ancora più ripagato. Io avevo una curiosità per la castellana. Come mai una ragazza di Canegrate ha scelto di fare la castellana qui a Legnano per San Domenico? Dire la verità, mi ha portato qui il mio nonno, perché lui ha sempre suonato le chiarine a San Domenico. E nel 96 io volevo sfilare, perché volevo, vedevo, tutte queste cose bellissime. Mi ha portato qui e da qui non me ne sono andata. È dato l'amore per San Domenico. No. E la prima volta che hai sfilato, che costume avevi? Era una bambina. Capitano, allora invece tu ti occupi della corsa, ci hai detto. Io ti occupo. Allora, com'è la situazione di San Domenico per quest'anno? Visto che la vittoria manca dal? Dal 96, 16 anni. Da 16 anni, per cui siete tra le contrade a cui manca da più tempo la vittoria. Siamo in secondi in ordine di anni. Solo Lignarello vi batte. Lignarello ci batte. Quindi... Speriamo che continui a battersi, non per cattiveria, no, perché tu sai che chi non vince da più anni diventa la nonna. Esatto, sì, sì. Ecco, allora, com'è la situazione quest'anno? Avete già scelto Cavallo, Fantino? Fantino sicuramente già scelto, quello vabbè, tutti lo scelgono a tempo indietro, quindi... Sui cavalli, secondo me siamo veramente da corsa quest'anno, però non siamo ancora sicuri di montare un cavallo piuttosto che un altro. Abbiamo una scelta fra due cavalli, abbiamo una decisione fra due cavalli. State valutando delle corse? No, le corse sostanzialmente sono finite. C'è ancora una riunione prima del Paglio e noi non parteciperemo perché i cavalli sono già a posto, non hanno bisogno di correre. E quindi decideremo, viste le prove al Paglio, probabilmente sulle sensazioni nostre del Fantino, perché comunque il parere del Fantino conta, è fondamentale. In base a quello decideremo anche il cavallo andrà al Paglio. Però credo che siamo veramente... io credo di essere da corso, poi... Le variabili sono... Ma te lo dico 27 sera, non c'è uno, gli altri non... E' vero intervistarvi comunque, eh? Magari mi trovi ubriaco. Speriamo, così le interviste vengono così di getto. Può darsi che tu mi trovi ubriaco, quindi... Allora, io vorrei chiedere una cosa alla Castellana che ho chiesto a tutte le altre Castellane. In caso di Vittoria, cosa promette la Castellana ai propri contradaglioli? Cosa promette? Devi promettere qualcosa. Adesso, come... Dico le promesse delle altre Castellane. Ti posso dire, ti dico cosa hanno promesso e non ti dico chi ha promesso cosa. Indovino io, no, scherzo. Abbiamo uno spogliarello, mi pare. Una Castellana astemia, che berrà con i suoi contradaglioli. E non vale, se l'ho suggerita, non vale, non vale. Poi cosa c'hanno promesso? Ma le promesse erano un po' tutte uguali, eh? Quelle che non si possono dire. Ce ne sono alcune che non si possono dire, le hanno promesse tutte a Ricky, non a me. E tu cosa ci prometti? Beh, scherzavo, chiaramente. Per quella sera tornerò a casa tardi. Ustì! Si è sbilanciata. Tutte brave ragazze, le Castellane, incredibile e incredibile. No, perché mi prendono in giro o perché io torno a casa presto la sera? Tipo presto cosa vuol dire? Perché è tutto relativo. Presto, mattino presto? Tipo alle 5 del mattino come faccio io? Parteciperai alla cena propizzatoria o sarai già... No, tra poco tardi. Stai a dormire? No, no, ci sarò, ci sarò. In grandissima forma. In grandissima forma. Quindi tornerai a casa per le 9 e mezza. No, facciamo mezzanotte. Come ce ne rentra, che tenera. Bene ragazzi, Ricky, c'è qualcos'altro che volevi chiedere magari al capitano? Sì, volevo chiedere al capitano... Ecco, no, adesso che me l'hai detto però sono curioso di saperla. Con tutte le donne del maniero. Loro lo sanno, sono d'accordo? Sono d'accordo. Non sono d'accordo ma è una decisione. Guarda che così... No, così ti porti sfiga da solo perché secondo me... E' da un anno che lo prometta tutte. Voi sperate che continui a perdere quindi la contrada, giusto? No, no, no. Anche se c'è una volta che... Allora capitano, però il 27 sera siamo qua a festeggiare per la vittoria di San Domenico. Che cosa succede qua in contrada? Guarda, io ho la fortuna di essere ormai... Cioè, no ormai perché non è che sono tutti morti. Cioè, siamo... No, no, nel senso, sono uno dei fortunati che ha visto vincere questa contrada. Nel senso che abbiamo tantissimi giovani che purtroppo non hanno vinto. Quindi non te lo dico perché sennò rovino la sorpresa loro. Vuoi lasciarli proprio... Spero che vedi qualcosa di veramente particolare qua. E tanto ci saremo se vincete... Vieni qua e te ne accorgi. Poi mi dirai che avevi ragione o avevi torto. Spero di avere ragione. Se non sei ubriaco. No, non so. Dovevo essere lucido anche quella sera lì. Eh, ti tocca, mi sa, eh. Bene, quindi noi possiamo augurare a Capitano e Castellana di realizzare il proprio sogno di vincere il Palio. E adesso andiamo a fare un giro per il Magno di San Domenico con il Gran Priore. Sì.